Il primo intervento che ci consentirà però di rendere le nostre aziende e le nostre imprese più competitive nell'ambito dell'efficientamento energetico e delle rinnovabili e questo è un passaggio di straordinaria importanza perché per poter competere con le imprese a livello internazionale le nostre imprese devono fare proprio anche questa sfida e la Regione Lazio ha assolutamente il dovere di sostenere le nostre aziende che sono il cuore consente dello sviluppo economico dell'interno e dell'interno della Regione ha il dovere istituzionale di sostenerle